Open Day allo stabilimento Colacem di Sasto Campano, l'occasione per conoscere da vicino una delle realtà economiche più importanti del territorio molisano. I tecnici dell'azienda che produce cemento si sono messi a disposizione della cittadinanza per rispondere a qualsiasi domanda sul processo produttivo e sulla sua gestione, soprattutto alla luce delle contestazioni legate alle presunte emissioni inquinanti, contestazioni sollevate da parte dei cittadini del Venafrano a cominciare dall'Aunus Le Mame per la Salute. Il direttore dello stabilimento Massimo Giaccari ha parlato di un impianto tecnologicamente avanzato e che fa della sostenibilità ambientale il suo punto di forza. Ascoltiamo. Il nostro processo produttivo che è, e oggi lo si può vedere per bene, è un processo produttivo compatibile con l'ambiente. Noi non siamo antagonisti né degli ambientalisti, ci mancherebbe altro, né di associazioni varie che sono attenti all'ambiente. Anche noi, prima di essere ai cementieri, siamo cittadini, siamo padri di famiglia e quindi sta molto a cuore la compatibilità ambientale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.